Conoscete tutti il bravissimo Alessandro Cattelan. E' stato infatti il conduttore di X-Factor e ora è pronto per nuovissime avventure. Cattelan è dunque un volto noto di Sky per cui ha presentato ben 10 edizioni del seguitissimo programma musicale. Nel corso della prossima edizione, Alessandro sarà però sostituito dal giovane Ludovico Tersigni, che condurrà il talent con la collaborazione dei quattro giudici, Nica, Manuel Agnelli, El Raton ed Emma Marrone. Siete curiosi di sapere qualche curiosità in più sulla sua vita lavorativa e privata, la carriera di Alessandro Cattelan. Nato nel 1980 a Tortona, Alessandro sogna sin da bambino di diventare calciatore. Nel corso della sua adolescenza, diventa però campione italiano di Jiu Jitsu, disciplina che abbandona ben presto. In seguito, inizia infatti a giocare in qualità di difensore nella squadra del Dertone, nel 2018, entra nella squadra di San Marino, con cui riesce anche a giocare in Champions League. Nel 2019, Alessandro decide però di lasciare definitivamente la sua carriera di calciatore per intraprendere quella della televisione, un ambito che aveva conosciuto già molto tempo prima. Nel 2001, avviene infatti il suo primo esordio, Cattelan prende parte al programma Play It, in onda su All Music. Nel 2004, lavora in MTV insieme a Giorgia Surina con, Viva Las Vegas, nel 2005, fonda un duo rapo con Gianluca Quagliano. E poi la volta di, Radio 105 Minuti, in cui lavora il programma 105 all'1, e di RTL. Nel 2009, è invece volto fisso di quelli che il calcio, insieme a Simona Ventura e, dal 2011, inizia a condurre, X Factor. Recentemente, è stato lui a lasciare Sky inaspettatamente. Alcune voci dicono che il conduttore potrebbe sbarcare in Rai e in Netflix con un nuovissimo progetto. Al momento, non ci sono però ancora informazioni certe, trattino maggiore la vita privata di Alessandro Cattelan. Cattelan è sposato felicemente con Ludovica Sauer, una bellissima donna di cui lui è molto innamorato. I due si sono infatti sposati nel 2014 e hanno anche avuto due figli, Nina, nata nel 2012, e Olivia, nel 2016. Trattino maggiore di lei non si hanno molte informazioni, si sa però che è nata nel 1981, è svizzera ed è diventata nota in Italia per essere stata una Miss Estatè. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.